Un cartellone ricco di eventi ed un restyling della città perché si presenti al meglio agli occhi dei turisti, ma anche attenzione alle piccole cose, ai bisogni quotidiani di chi vive la città, dal suo centro alla periferia. Così la gente vede e vorrebbe Pistoia, capitale della cultura 2017. La designazione del Ministero ha riempito d'orgoglio i pistoiesi che hanno visto la loro città al centro di programmi e tg nazionali, innescando poi in molti anche il desiderio di scoprire o riscoprire angoli più o meno conosciuti. Da tanti che abbiamo incontrato per le strade del centro, la designazione è comunamente definita come un'occasione unica per il futuro di Pistoia, che sarà per tutto l'anno sotto i riflettori del paese. Com'è bella questa vita, senza ieri e domani, tutto il mondo tra le mani e una voglia di cantare. Che Pistoia le piacerebbe trovare il primo gennaio 2017? Io direi una Pistoia in parte rinnovata per accogliere il pubblico e in parte anche per la cultura, per quanto riguarda gli interventi, pianificando più attività. Ci vorrebbe un po' di polizia in più, perché ci sono delle strade tutte piene di buche, marciapiedi aggiustarli e la polizia più che altro. Ci sono dialoghi sull'uomo, ci sono tanti altri eventi. Magari nell'anno del capitale della cultura sarebbe importante avere anche altri eventi. Però ecco, non facciamo solo eventi, poi magari attenzione anche a qualcos'altro. E magari non solo eventi culturali. Forse un po' più cultura per tutti, perché a volte a Pistoia c'è una cultura un po' d'elite e questo non avvicina le persone che magari non sono tante acculturate. Ecco questo, una cultura per tutti. Diciamo che a livello iniziative per i giovani c'è poco o niente, a parte la sala e qualche cosa che c'è, nulla a Pistoia. Qualche locale ma sono fuori dal centro. Al di là dei grandi eventi, in cartellone, dal blues o altro, qualcosa un po' nel resto dell'anno. Sì, esatto, nel resto dell'anno, perché poi forché il blues e qualche evento particolare a Pistoia non c'è niente. Ma si vede già dal mercato e comunque è un po' calata l'affluenza della gente, può venire a Pistoia. La fine per i giovani c'è poco o niente, anche la sera c'è poco da fare, nel senso, poi non più di movimento, non scomoderebbe. Mi piacerebbe fosse un po' più tranquilla, un po' più pulita in periferia. Specialmente perché i parchi hanno anche tenuto un pochino meglio. Quindi bisogna prendersi cura della città esattamente come queste piante. Certo, io ci metto queste, poi spazzo. Perché purtroppo, vedi, quando spazzano di qui ci buttano. A volte i ragazzi, la birra, le scicche. E dispiace perché, insomma, a me piacciono tanto le piante. Pistoia mi sembra una città vivibile, tranquilla, serena. Non vedo cosa potrebbe migliorare, ecco. L'importante è che mantenga ciò che è. Sì. Ora, come è strutturata ora, diciamo, Pistoia è seguita bene sia dalle parti culturali che iniziative che vengono a fare. Come viene tenuta anche Pistoia. Siamo un po' in difficoltà, sarà bella, c'è tanti posti, ma un po' trasandata, strade, tutto, marciapiedi, c'è un po' di tutto. Perché se trovano una città accogliente e a posto, credo, ha un valore. Poi tutto il resto, la città ha tante cose belle da vedere, anche se non sono conosciute, però ce ne sono tantissime davvero. Che ha meritato, penso, di essere la città della cultura. Si spera che quei contributi che vengano dati vengano spesi anche per quello che c'è da fare per migliorare la città.